Mi raccomanda a tutta la popolazione di seguire le indicazioni per il contenimento del coronavirus. Sono vietati gli assembramenti. Bisogna restare tutti in casa. I decreti del governo, occorre ricordarlo, non impongono un vero e proprio coprifuoco, anche se richiedono una giustificazione per tutti gli spostamenti, imponendo di limitarli a quelle essenziali per necessità o lavoro o salute, imponendo anche determinati orari o chiusure ad alcune attività e soprattutto proibendo assembramenti. Anche la Polizia Municipale di Salerno è impegnata per farli rispettare, per sensibilizzare i salernitani in tal senso, con un'auto che sta girando per i quartieri del capoluogo, ripetendo il messaggio di invito al rispetto delle indicazioni per il contenimento del coronavirus con un apposito sistema audio. Guidire solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, salute e per l'acquisto di genere alimentare di prima necessità e farmaci. Restare tutti in casa, uscire il meno possibile, questo in sostanza all'appello diramato anche da Palazzo di Città, tramite vigili urbani, per fare in modo che questo momento di difficoltà possa durare il meno possibile.